Buongiorno a tutti quanti, oggi è il 24 24 giugno, l'ho guardato prima così ero preparata per dirlo allora stiamo tornando su alla casona dove ho fatto il compleanno per vedere, perché mamma non si fida di come l'ho lasciata e quindi andiamo a vedere un attimo di mettere un attimo a posto, un attimo a pulire perché comunque non ho magari spazzato e lavato e poi stiamo un po' lì, prendiamo il sole e poi e poi cosa andiamo a mangiare non vi voglio spoilerare nulla comunque adesso sono le 10, sì e ne apriamo un caffè al bar di Brian così poi dopo stiamo di strada e partiamo farvi vedere la nuova mascherina che ho preso è un po' grande, però io la volevo nera allora siamo arrivati a fermate al ristorante per prenotare perché poi tra poco, tra un'oretta e mezza insomma veniamo a pranzo ma vi faccio vedere dopo cosa mangiamo una roba buonissima, una roba buonissima e niente, fa un bel caldo anche qua su intorno di sotto ci sono tipo tot gradi in meno salve, già fatto? prenotato? sì prenotato, ciao! comunque io non vi ho fatto vedere nello scorso video un po' com'è la casa questo è tutto il giardinone fuori e poi c'è anche qua dietro si va tutto giù e poi laggiù, laggiù, laggiù c'è l'orto ma se lo faccio vedere dopo arrivano gli insetti poi qua questo c'è il vialetto di entrata qui c'è una madre e qui c'è tutto un vialettone che va giù ci abbiamo messo tutte le macchine l'altra volta mi stanno già arrivando gli insetti addosso non è vero noi ci siamo stati molto bravi non abbiamo lasciato casino, vero mamma? un bel casino lì dentro però vi ha messo tutto dentro adesso diamo un po' una spazzata però siamo stati bravi non ha urlato mamma dicendo cosa è sto pacciugo e niente inizio a lavorare e quante mosche un po' mi vanno ma qui andiamo verso l'orto vieni con me dei tassi aiuto me ma davvero ma che cagoni odio di cui come tutta con i nocciolini non lo so cosa fanno vabbè qui di solito ci sono le fragoline di bosco ma non so ne ho già mangiate molte tempo fa qui c'è un fico e ahhh insetti ovunque ovunque non mi segue più il tubo bastava dirlo devo tornare troppo sporta è attaccato no è attaccato 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 vai aprire l'acqua aperto si è attaccato no ah guarda l'insalata che bello è insalata l'insalata con i pomodori che sta spuntando ma è successo e poi che bello è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.